Ucciso 27enne pesarese in pieno centro, caso molestia Fano, istruttore di tendis nega tutto, mercato San Decenzio trasloco in vista per l'area food, nasce l'associazione operatori turistici Riviera del San Bartolo, una settimana con Rossini a Palazzo Perticari. Buona serata amiche e amici di Rossini TV, ben ritrovati in un nuovo spazio informativo del nostro telegiornale Rossini News. Telegiornale di martedì 21 febbraio, segnato da un terribile fatto di sangue a Pesaro, dove questa mattina è stato trovato il cadaver di un 27enne all'interno di un'abitazione del centro storico e si indaga per presunto omicidio. Sangue in pieno centro storico a Pesaro. Questa mattina, martedì 21 febbraio, attorno alle 10 di mattina, è stato trovato il corpo senza vita di un 27enne di Pesaro. La vittima si chiama Pierpaolo Panzieri. Parliamo di vittima perché si parla di presunto omicidio sul quale stanno indagando squadra mobile della polizia, polizia scientifica arrivata anche da Ancona e da Bologna. Fatto di sangue che è avvenuto al numero civico 19 di via Gavelli, piccola via chiusa del centro storico di Pesaro, a pochi passi dal conservatorio Rossini. Un'abitazione, quella del Civico 19, nella quale Pierpaolo viveva da poche settimane. Un contratto d'affitto iniziato proprio nel mese di febbraio. Il ragazzo si era trasferito da Baia Flaminia. Il ragazzo che lavorava nell'azienda di famiglia a Vallefoglia, a trovarlo proprio il fratello che non vedendolo arrivare al lavoro, si è precipitato a casa per trovare sue notizie e poi la macabar scoperta. Il corpo senza vita del ragazzo, classe 1995, riverso in una pozza di sangue. Indagini tuttora in corso. Si sta cercando una presunta arma da taglio con la quale sarebbe stato effettuato questo omicidio. Ricerche ovunque, anche sul tetto, attraverso l'ausilio dei vigili del fuoco, i rilievi della polizia scientifica sono in corso. E poi, naturalmente, è caccia l'autore del gesto attraverso le indagini della polizia coordinate dal sostituto procuratore Silvia Cecchi. Questa mattina è stata presto scartata l'ipotesi del suicidio alla luce delle ferite d'arma da taglio rilevate sul corpo di Pierpaolo. Ben 13 i fendenti con cui il presunto omicidio avrebbe colpito il 27enne fra torace e schiena. Al momento la polizia sta sospettando di un trentenne conoscente di Pierpaolo e si è messa sulle sue tracce. È molto probabile che l'assassino abbia trascorso la serata in casa con Panzieri, vista l'assenza di segni di effrazione all'ingresso dell'abitazione e poi la situazione è degenerata per motivi ignoti. Indizi che sono stati rilevati dopo che sono stati ascoltati i genitori e i familiari, così come i conoscenti convocati in questura per avere un quadro della situazione che possa dare elementi utili a comprendere retroscena che possano aver portato al delitto. La notizia dell'omicidio si è sparsa repentinamente questa mattina in centro storico dove sono accorsi diversi amici della vittima. Qualche retroscena è emerso e proprio Pierpaolo Panzieri aveva invitato alcuni di questi ragazzi sabato a cena nella sua abitazione. Poi un invito declinato sul quale era rimasto appunto questa situazione sospesa. Questo è però solo uno dei tanti elementi al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di ricostruire la rete di rapporti che possa aver portato a questo tragico fatto di sangue nei confronti di un ragazzo come Pierpaolo Panzieri che lavorava a Montecicardo in un centro per materiali edili e che, va ricordato, era incensurato e senza precedenti penali. E naturalmente questa è una notizia drammatica, terribile e clamorosa sui cui sviluppi vi aggiorneremo nei nostri prossimi spazi informativi. Ora cambiamo argomento e ci spostiamo a Fano, dove ha creato sconcerto in questi giorni il caso di un maestro di tennis accusato di molestie nei confronti di allievi minorenni. Dopo la misura degli arresti domiciliari, l'indagato è stato sottoposto ieri ad un interrogatorio. Nessuna molestia e nessun palpeggiamento, solo gesti affettuosi malinterpretati legati alla sua espansività sudamericana. È stata questa, in estrema sintesi, la difesa di Juan, 37enne di origine argentina, maestro di tennis al Circolo Trave di Fano, ascoltato ieri nell'interrogatorio di garanzia al Tribunale di Pesaro. La sua vicenda ha creato sconcerto a Fano, dove tre suoi allievi minorenni dei corsi di tennis lo accusano di palpeggiamenti nelle parti intime. Accuse sulle quali ha indagato il commissariato di polizia di Fano e sulla base delle quali da giovedì è stata firmata l'ordinanza cautelare per gli arresti domiciliari di Juan. A firmarla il giudice per le indagini preliminare Antonella Marrone, che ieri ha interrogato il maestro di tennis. L'istruttore, difeso dall'avvocato Cristina Marrone, si è detto estremamente dispiaciuto per l'accaduto, ha ammesso dei contatti fisici con gli allievi in questione, ma sempre legati a contatti d'attività sportiva e da esternazioni d'affetto male interpretate come vaci sulla guancia che possono aver sfiorato le labbra. Atteggiamenti però mai legati a secondi fini sentimentali o sessuali. Due ore di interrogatorio, mentre le stesse forze dell'ordine stanno setacciando messaggi sms e via social. Nei prossimi giorni l'avvocato Ugolini valuterà se proporre un riesame della misura dei domiciliari. Intanto i tre ragazzi che hanno accusato l'istruttore hanno lasciato il circolo tennis, dove inevitabile è stato lo spiazzamento delle tante famiglie che frequentano uno dei principali poli sportivi della città. Prima del circolo trave, il maestro Juan aveva insegnato tennis anche a Pesaro, al circolo di Baia Flaminia, con il quale nel 2019 le strade si erano separate per divergenze tecnico-sportive. Lasciamo la cronaca e ci occupiamo delle novità in vista per il mercato San Decenzo di Pesaro che si prepara a delle modifiche che stanno riscuotendo pareri contrastanti fra ambulanti e frequentatori del mercato. Si sa quel che si lascia, non si sa quel che si trova. È questo ciò che i commercianti dell'area food attualmente situati tra Via Lamarca e San Decenzo si ritrovano ad affrontare oggi. Pareri contrastanti che però viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda. Il timore di lasciare il posto a loro riservato oramai da tanti anni per trasferirsi ancora non si sa bene dove, ma quello che è certo è che sarà insieme al mercato dell'abbigliamento. Questo dovuto al fatto che tante bancarelle di vestiario, negli ultimi anni, hanno lasciato il proprio posteggio creando dei veri e propri vuoti tra una e l'altra. L'idea delle comuni è quindi quella di compattare le due fasce di mercato per restituire un decore estetico ad uno dei mercati più grandi del nostro territorio. Non tutti ne sono rimasti però entusiasti e se qualcuno ha dato via anche ad una raccolta firme per non farsi sfrattare, qualcun altro sembra invece accettare la sfida. Sono del parere favorevole. Bene o male la clientela mi ritrova. la lunga di 15 giorni, un mese, due mesi il massimo. Poi ci ritrovano. Allora di là dove c'è l'abbigliamento è meglio. Così siamo tutti insieme. Io spero che se andiamo di là magari lavoreremo pure di più. Però la mia paura è che so che io oggi qui lavoro. Di là non saprei. Spero perché noi vendiamo poi il mangiare. Se metti il caso ci va a qualche mercato male iniziamo col mangiare che non andiamo a buon fine. Qui so che ormai sono tanti anni so che devo portare tanto articolo e tanto articolo vendo. Io vengo qui al mercato di Pesaro da quanto avevo 13 anni. Ne ho 40 quindi è un bel pezzettino che vengo al mercato. La nostra posizione è che come già abbiamo spiegato all'amministrazione addirittura abbiamo fatto una raccolta firme. Noi non vogliamo assolutamente un ulteriore spostamento. Perché ogni spostamento che noi facciamo per noi è una grande perdita. È una perdita in termini di clientela. Perché purtroppo un minimo spostamento già crea un danno al cliente che non ti ritrova più. Le motivazioni che ci hanno dato la pubblica amministrazione dello spostamento sono motivazioni che non hanno un fondamento. Lo fanno per un parcheggio perché devono liberare un parcheggio ma vanno a spostarci e occupare un altro parcheggio in un altro mercato. C'è da tener conto che noi qui siamo dal lato della città. Di là saremmo lato cimitero e da che mondo è mondo dal cimitero non vengono fuori per venire a comprare. Quindi la gente viene dalla città. Noi ci troviamo a servire persone che vengono a piedi persone avanti negli anni sono disposte poi quelle persone a venire fino di là fare con le borse o col sottopasso un bel tragitto con il peso nelle mani? Difficilmente. Ho raccolto ormai diverse settimane fa a distanza di alcuni esercenti qui del mercato del food che dal giorno all'altro si sono trovati comunicati il desiderio da parte del Comune di spostare in blocco il mercato del food nella zona che oggi ospita in parte il mercato non alimentare quindi dove c'è l'abbigliamento e dove ci sono altri prodotti. Con alcuni colleghi di Centrodestra abbiamo scritto un'interpellanza per capire di più perché come consiglieri comunali come commissione adibita non siamo stati minimamente coinvolti nella decisione di questo spostamento e soprattutto non sappiamo qual è il progetto per poter fare una valutazione chiara e capire se ci sono benefici se ci sono difficoltà oltre ad ascoltare ovviamente gli esercenti dobbiamo capire anche qual è l'idea del Comune. Non siamo contrari allo spostamento così come non siamo favorevoli perché spostare una realtà qui che funziona per andare al buio a scoprire quello che succederà soltanto dopo non va bene ma allo stesso tempo siamo disponibili al confronto se il progetto se la visione nuova che l'amministrazione comunale ha in mente per questo mercato ci convince volentieri daremo sostegno e supporto anche nel pensare un nuovo mercato tutto nella zona del San De Scenzio. Il tragetto da Vallefoglia a Pesaro diventerà percorribile in meno tempo e in maniera sostenibile grazie al nuovo bus del futuro che sarà finanziato dalla Regione Marche. I dettagli nel servizio di Edoardo Razzi. Da Vallefoglia a Pesaro in 10 minuti presto sarà possibile. Sicuramente non con auto che voleranno come ci si poteva immaginare il futuro decine e decine di anni fa ma attraverso un autobus elettrico che circolerà in una corsia ad esso riservato. Se le grandi città europee si sono già mossi in anticipo su questo fronte nelle Marche si tratta di un progetto pilota diventando il secondo caso in Italia dopo quello avviato in Umbria che potrà valorizzare così l'asse introterra costa aprendo gli occhi al domani. Si è raggiunto una ipotesi sulla quale noi esprimiamo grande soddisfazione di un pullman rapido Vallefoglia a Pesaro questo comprensorio dove c'è già il sistema della circolare destra e sinistra che consenta di fare mentre la circolare sono a mezz'oretta per andare a Pesaro in 10 minuti si va in una corsia preferenziale elettrico come nelle grandi città europee. Una novità l'insegna della sostenibilità sganciata dall'assessore regionale Baldelli in occasione dell'incontro sui fondi europei destinati alla regione Marche. Su 11 milioni di contributi per lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico sostenibile una sostanziosa fetta la regione la riverserà per finanziare l'idea di questo collegamento futuristico. E' un investimento importante che cambia il modo di diciamo di approcciarci anche ai posti di lavoro perché è chiaro che se uno ha queste due opportunità ci sarà un drastico calo dell'inquinamento atmosferico un drastico calo dell'uso del mezzo privato e un fortissimo aumento del mezzo pubblico cioè l'utilizzo del mezzo pubblico e spero quando firmeremo l'accordo con i sindacati delle imprese e dei lavoratori che magari come è avvenuto io l'ho vissuto direttamente sulla mia pelle l'avvonamento dell'autobus era a totale carico della ditta dell'impresa magari metà e metà però ecco è anche un'integrazione salariale quindi riduzione degli incidenti molti dei quali anche mortali un uso nella logica della sostenibilità dei mezzi pubblici e più macchine dentro il garage secondo lei conoscendo il territorio di Vallefoglia dove sarebbe più opportuno costruirlo intanto bisogna capire se quei soldi sono immediati i tempi e poi bisogna capire normalmente perché dove c'è la strada la viabilità di solito si fa anche il percorso ciclopedonale la ferrovia e anche un pullman veloce si tratta di studiare anche tecnicamente le soluzioni migliori meno costose più vantaggiose e nel prossimo servizio ci spostiamo nella sede della Confcommercio Marche Nord dove questa mattina è stata ufficialmente presentata la nuova associazione di operatori turistici della riviera del San Bartolo con lo scopo di promuovere un'area centrale del territorio anche in vista di Pesaro 2024 questa situazione nasce anche se si chiama associazione del San Bartolo non solo per il San Bartolo ma per promuovere l'intero territorio che diciamo è la parte nord delle Marche quindi noi siamo la porta delle Marche i quattro comuni da Pesaro comune capoluogo di provincia a Gabice che è l'ultimo comune e Gradare e Tavulia che sono i lembi che confinano diciamo con la Romagna noi siamo la porta nord quindi delle Marche e il baluardo diciamo della Romagna e quindi dovremo promuovere questo territorio a partire dal San Bartolo ma anche non facendo anche una politica di accoglienza e di di accoglienza in questi in questi comuni e vorremmo coinvolgere anche la regione che non ci dimentichi perché altrimenti noi saremo in difficoltà una promozione del territorio che deve cambiare in che modo per far sì che questo progetto abbia un lieto fine ma deve cambiare soprattutto deve far conoscere un parco che oggi sulla carta esiste ma in effetti turisticamente non ha dato mai nessun risultato risultato perché non si è creato una promozione adeguata soprattutto non si è creato delle attrazioni dentro San Bartolo oltre che la promozione deve avere i collegamenti gli alberghi un turista che vuole andare al parco San Bartolo non sa come fare se invece ha i collegamenti con gli alberghi che magari delle navette o dei mezzi lo portano all'ingresso del parco dove lì magari c'è uno che lo accoglie e gli fa visitare i sentieri le bellezze del parco questo vuol dire cambiare e promuovere e accogliere il cliente per il parco era ora ma è un progetto pensato da tempo ma che ci proietta al futuro noi l'abbiamo dimostrato anche come Confcommercio cercando di fare rete con i comuni per i progetti di promozione con l'itinerario della bellezza oggi all'interno del mondo del turismo alberghiero della ricettività nasce l'esigenza di lavorare insieme di unirsi per essere più forti nei confronti delle istituzioni comunali e regionali e perché insieme possiamo anche attingere risorse che consentono a questo territorio di essere più presente sui mercati e quindi lavorare per le nostre imprese si è peso il 2024 che ovviamente è a peso ma sarà comunque sicuramente un'occasione di lavoro anche per gli alberghi di Gabice Tavuglia e Gradara le strutture ricettive perché ovviamente l'ospitalità che abbiamo a peso in termini di ricettività alberghiera è limitata nel senso che soprattutto in inverno perché l'obiettivo di Pesaro 20 e 24 è quello di allungare la stagione e quindi di cercare di lavorare un po' tutto l'anno ci sono circa 15 strutture aperte quindi sicuramente saranno largamente insufficienti per affrontare l'anno della capitale e della cultura per cui questa associazione secondo me nasce anche in questo momento opportuno perché noi a Pesaro 20 e 24 ci presenteremo come Riviera del San Barton e non come Pesaro e Gabice Ogradara e Tavuria giornalismo marchigiano in lutto per la scomparsa all'età di 70 anni di Dario Gattafoni che è stato presidente dell'Ordine dei giornalisti delle Marche dal 2011 al 2017 Gattafoni stava lottando da tempo contro una grave malattia ma è rimasto sempre un punto di riferimento di esperienza e competenza per l'intera categoria i funerali si terranno domani mercoledì 22 febbraio alle 15 nella chiesa di Santa Maria Apparente a Civitanova Marche a Vallefoglia Marche Multiservizi ha cominciato i lavori per l'estensione dell'acquedotto comunale per il collegamento alla rete idrica dei residenti di via Calfattore in località Miniera i lavori sono finanziati con le somme delle sopravvenienze attive derivanti dalla fusione per incorporazione di Megasnet SPA ammontanti a 27.500 euro che il comune di Vallefoglia ha deciso di destinare per questo intervento che consentirà di collegare all'acquedotto comunale le abituazioni situate nella zona Fratalacchio e Ponte Vecchio che fino ad oggi non usufruivano di questo importante servizio e domenica scorsa il monastero di Fonte Avellana ha accolto i sette Lions Club della zona A ovvero Pesaro Ost Pesaro della Rovere Fano Urbino Pergola Senigallia Gabicemare oltre al Leo Club di Pesaro per un momento di solidarietà spiritualità amicizia e rinascita dopo l'alluvione di settembre che ha flagellato questa zona i club hanno donato una nuova automobile ai monaci dopo che quella che possedevano fu travolta dal fango e continua l'appuntamento con la rassegna classici per un anno che venerdì 24 febbraio alle ore 18 nel salone degli affreschi di Villa Caprile proporrà Enrico Capodaglio che racconta De Re Romunatura di Lucrezio Titocaro attraverso letture di Anna Annibali Lucia D'Angeli Luca Cenciarini e di Letta Monte Bugnoli E concludiamo il nostro telegiornale occupandoci delle settimane rossiniane con il non compleanno di Gioacchino Rossini che sarà celebrato anche in un luogo molto speciale come l'appena restaurato Palazzo Perticari Scoprire vita e abitudini di Gioacchino Rossini andando oltre la sua celebrata eccellenza artistica e musicale poterlo fare in un luogo che fu frequentato dallo stesso Rossini e che da qualche mese è tornato ad aprirsi ai pesaresi dopo anni di restauro le settimane rossiniane 2023 arrivano infatti a Palazzo Perticari grazie al proprietario mecenate Franco Signoretti che apre le porte del nobile palazzo che nei primi decenni dell'Ottocento fu dimora di Giulio Perticari e della consorte Costanza Monti che fecero della loro residenza un vivace salotto culturale frequentato da Rossini così come Dantaldi Petrucci o Giordani così dal 28 febbraio giorno del non compleanno di Rossini fino al 5 marzo si potranno riscoprire preziosi documenti d'epoca di proprietà della fondazione Rossini narrati dalla storica della musica Maria Chiara Mazzi in un progetto accompagnato da Amat e dalle letture della voce dei libri un luogo nuovo prestigioso potete già vedere che cose bellissime che chi verrà potrà vedere o della ascoltare Maria Chiara Mazzi in un racconto quasi da sogno perché ci riporterà al periodo di Perticari Rossini una cosa curiosissima ovviamente non vi svegliamo niente da lettere proprio autografi di Rossini e anche da ricerche storiche questo progetto messo in piedi da Lucia Ferrati Fondazione Rossini e Palazzo Perticari noi dobbiamo ringraziare Signoretti che veramente con grande entusiasmo ci ha messo a disposizione questo meraviglioso palazzo e cinque incontri importantissimi perché saranno anche d'orari diversi in maniera che tutti possono partecipare pomeriggio, sera e la mattina dedicata alle scuole una settimana veramente bella intensa e riscopriremo Perticari e Rossini molto spesso Rossini veniva in visita alla famiglia Perticari e qui evidentemente si sono svolte delle situazioni di convivialità per cui sentiremo dalla narrazione un po' degli aneddoti e delle particolarità che ci farà conoscere Rossini uomo Rossini persona pubblica piuttosto che solo compositore musicista L'evento sarà replicato ogni giorno ad orari diversi il 28 febbraio 3, 4 e 5 marzo alle ore 17 il 2 marzo alle 21 il primo marzo alle 10 per gli studenti un'occasione per scoprire Rossini così come per scoprire casa Perticari con le conseguenti visite guidate al palazzo passato tutti questi anni nel restauro nel recupero e adesso sono i primi approcci con quella che è l'utilizzo pubblico quanto meno sociale del palazzo stiamo allestendo anche tutti gli apparati necessari per la comunicazione e devo dire che è una cosa entusiasmante speriamo che sia una location che sia apprezzata anche da altri e si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News come di consueto vi ricordiamo alcuni appuntamenti sulla nostra emittente a cominciare dalla prima serata di questo martedì che come ogni martedì alle 21.20 vi propone Cycling Lens TV il format settimanale sul mondo della bici da strada e-bike MTB e molto altro a seguire alle 22 vi riproponiamo una puntata del format storie racconti di successo nella provincia di Pesero e Urbino storie questa sera dedicata a Mauro Fradeani noto medico dentista di Pesero appuntamento alle 22 e poi le repliche giovedì alle 15.15 sabato alle 19 e domenica alle 12 e poi come di consueto l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini che per l'occasione sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi ed è davvero tutto per questa sera vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi